Kia presenta la nuova EV6, un concentrato di personalità e soluzioni intelligenti in grado di segnare un vero punto di svolta per la mobilità sostenibile della casa coreana. L'estetica è uno dei punti cardine di questo nuovo crossover elettrico, con un design spiccatamente fuori dal comune, grazie alle proporzioni rialzate e al contempo slanciate. La prima impressione è di una vettura sportiva, tecnologicamente avanzata e futurista, con giochi di nervature e firma luminosa che si fondono a creare una visuale di sicuro impatto. Si distacca da quanto già visto finora anche l'abitacolo, la plancia sviluppo orizzontale si assottiglia, la strumentazione, unicamente digitale, viene affidata ai due display a sbalzo e la posizione di guida rialzata è molto comoda. In generale lo spazio non manca, con quattro posti comodi e tanto spazio per le gambe dei passeggeri, mentre meno abbondante è l'altezza dei sedili posteriori, che risentono dell'inclinazione coupé del tetto. Le prestazioni esaltano la sportività dell'estetica. Come siamo ormai abituati dalla tecnologia elettrica, il motore sorprende per l'immediatezza della coppia e il telaio regala un'ottima rigidità e un baricentro basso, che si traducono in precisione tra le curve. Prestazioni portate all'estremo nella versione GT, rivolta ai più sportivi, che la mette in competizione diretta con il mondo delle supercar, grazie ad una potenza davvero esagerata. Proporremo in Italia la versione long range, quindi con una batteria da 77,4 kWh, che consentirà per la versione due ruote motrici di superare i 510 km di autonomia. Un grande passo, dunque, quello di Kia, che lascia ben sperare per quanto riguarda il rapporto tra piacere di guida e motorizzazioni elettriche, un binomio che si sta riscoprendo sempre più vincente.